Allora, intanto vi porto i saluti del dottore Roberto D'Arosso, che come probabilmente saprete è il coordinatore nazionale del gruppo di studio interassociativo AMD SID sul piede diabetico. Roberto che mi ha appena scritto e si scusa per non aver potuto partecipare a causa di impegni istituzionali. Allora, comincerei con la definizione rapidamente, perché ancora oggi si discute su quale delle due possa essere la definizione più appropriata di piede diabetico. Io direi di privilegiare la prima, cioè un piede con delle anche minime alterazioni anatomofunzionali determinate dall'arteriopatia e dalla neuropatia e questo per evitare poi di vedere un piede in condizioni disastrose, sulle quali condizioni poco si può fare se non un'amputazione maggiore. Vediamo qualche dato epidemiologico. La prevalenza delle ulcere del piede varia tra il 4 e il 10% delle persone con diabete, con un'incidenza annuale delle ulcere pari al 2-4%. Un paziente diabetico nel corso della propria vita è interessato a ulcere e amputazione fino a circa il 25% dei casi. La più gran parte, 40-60% delle amputazioni non traumatiche degli arti inferiori, si verificano nel paziente affetto dal diabete e direi soprattutto il 47% delle ulcere sono sconosciute ai medici e questo perché ancora dal medico di medicina generale, ma soprattutto direi il diabetologo, ha la colpa di non fare togliere i calzini al proprio paziente al momento della visita. I numeri sono quelli che abbiamo visti, i costi sono ancora se possibile più importanti perché il costo delle guarigioni primarie è stimato negli Stati Uniti tra i 7 mila e i 10 mila dollari con un costo di un'amputazione associata al piede che si aggira sui 6 mila dollari. Il costo valutato a tre anni per iniziare le amputazioni è calcolato intorno ai 43-60 mila dollari a cui dobbiamo considerare anche i costi relativi alla perdita di produttività oltre a quelli sostenuti dei pazienti e allo scadimento delle qualità della vita per cui a tutt'oggi si calcola che la spessa totale per il piede diabetico negli Stati Uniti è intorno ai 4 milioni di dollari l'anno, numeri pazzeschi. In questa tabella vi ho riportato i quattro principali momenti patogenetici che concorrono alla determinazione delle lesioni di cui parleremo brevemente e in quest'altro cartoon vi ho portato un po' la sintesi e cioè un paziente diabetico esposto a un trauma in presenza di neuropatia o di vasculopatia periferica va dalla fase preulcerativa a quell'ulcerativa e quindi sviluppa un'ulcera che se complicata da un'infezione può evolvere verso un'amputazione. Brevemente la neuropatia, in questo cartoon praticamente è esemplificato cosa vuol dire la neuropatia periferica, di fatto c'è una rallentata velocità di conduzione, vedete che la conduzione dello stimolo è più rallentata rispetto al soggetto sano di controllo. Sappiamo esserci una neuropatia sensitiva per la quale c'è una perdita, una riduzione prima, una perdita della sensibilità vibratoria, tattile, dolorifica e termica, il paziente lamenta parestesie, ipoestesie fino alla perdita della percezione del dolore e quindi la perdita dei meccanismi di difesa. Ma c'è anche una neuropatia motoria per cui si ha un'alterata distribuzione del peso corporeo sulla superficie del piede durante la deambulazione con la creazione di nuovi punti di pressione anomala, quelle cosiddette aree di iperchieratosi e di callosità che se non trattate, se non gestite, possono evolvere verso un'ulcera. Si ha anche a causa della neuropatia motoria un'ipovalidità muscolare che caratterizza questo aspetto tipico del piede neuropatico con una atrofia dei muscoli della loggia dorsale. La neuropatia autonomica che è presente in circa il 30-40% dei pazienti con neuropatia sensitiva e colpisce circa il 10-15% dei pazienti diabetici. Un piede neuropatico affetto da neuropatia autonomica è un piede come quello dell'arto sottoposto a simpaticectomia, la cute calda, le vene turgide, l'assenza di peri e la riduzione delle ghiandole sudoripere. E queste sono delle caratteristiche fissurazioni iperidrosi che spesso nei talloni ma anche nella superficie plantare dei nostri pazienti diabetici affetti da neuropatia vediamo. La vasculopatia periferica, processo atelosclerorico che induce stenosi e in ultima analisi ischemia. Questo è un piede ischemico con questi parametri che ben lo caratterizzano. Un quadro arteriografico con la presenza di occlusione stenosi che concomitano nelle lesioni anche se citando il lavoro di Loguerfo che è un caposaldo della letteratura del piede diabetico nel paziente diabetico predominano le occlusioni rispetto alle stenosi, occlusioni che sono prevalentemente sottogeicolari e che quindi caratterizzano le arterie poplite, la tibiala anteriore, la posteriore e l'interossia. Di solito sono multisegmentali e calcifiche. Allora in questa tabella vi ho sintetizzato i principali caratteri differenziali cliniche tra un'ulcera neuropatica e l'ulcera ischemica. L'ulcera neuropatica è caratterizzata da una cute circostante ipercheratosica mentre nel piede ischemico la cute è pallida, fredda e atrofica. In questo caso i polsi sono assenti. Il piede ischemico si localizza preferenzialmente nelle aree con circolo terminale quindi le ulcere sono localizzate a livello dell'alluce e del tallone mentre nell'ulcera neuropatica preferenzialmente a livello delle teste metatarsali e sulla superficie plantare del piede. Nella maggior parte dei casi come detto l'ulcera neuropatica è indolore viceversa il piede ischemico è caratterizzato da una forte componente dolorosa. Questi sono due pazienti affetti da ulcera neuropatica e questi invece due piedi ischemici quello nella tabella di destra complicato anche da un'infezione. E a proposito di infezione che è il terzo, certo non per importanza momento eziopatogenetico delle lesioni questa è la classificazione ancora vigente dell'International Working Group del Diabetic Food e che tiene conto delle varie manifestazioni cliniche delle infezioni con quattro gradi possibili a secondo se c'è un'assenza di manifestazioni infiammatorie fino a una compromissione sistemica con tutte quelle caratteristiche cliniche che possono addirittura compromettere la vita del nostro paziente. e questa è la tabella dei principali germi che sono responsabili dell'infezione del piede il punto, chi è che si occupa di piede sa molto bene che questa flora è spesso polimicrobica quindi lo vedremo poi se ci resta qualche minuto nella flow chart del trattamento del piede molto spesso la terapia è plurima i pazienti fanno 3-4 antibiotici per diverse settimane addirittura per diversi mesi e molto spesso si selezionano dei ceppi resistenti che ci impongono continuamente di sottoporre il nostro paziente ai tamponi per modificare la terapia antibiotica infine i fattori esterni capiamo bene che in presenza di queste alterazioni di calzature, di traumi, di infezioni locali pazienti che per motivi socioculturali camminano con i piedi scalzi o patologi ortopedi come la luce valgo ovviamente questi pazienti sono più predisposti all'insorgenza delle lesioni questa è la classificazione ancora oggi utilizzata che ci consente di caratterizzare le lesioni vedete come probabilmente saprete che nell'asse delle ascisse c'è la profondità delle lesioni quindi andiamo da un grado zero con una lesione pre-ulcerativa o post-ulcerativa un piede chiuso insomma fino ad arrivare al grado 3 quando l'ulcera è profonda interessa l'osso e le articolazioni nelle asse delle ordinate la presenza di infezione, di ischemia o di entrambe questa classificazione mi porta a citare un lavoro datato ma ancora sempre presente e attuale che ci dice sostanzialmente che quanto più un piede infetto ischemico quindi sostanzialmente nel grado 3D quanto più probabile per non dire certe è l'amputazione dei nostri pazienti ma questa è la classificazione tanto cara tirata fuori dai chirurghi pascolari che comincia a prendere piede ed è dall'acronimo di wifi wound ischemia foot infection per ogni grado di lesione di ischemia e di infezione anziché esserci tre stati ce ne sono quattro che rendono un po' più complicato le cose ma più facilmente caratterizzabile il paziente con un approccio più specifico nel documento di consenso internazionale ma anche nelle nostre guide italiane all'approccio del paziente diabetico viene sostanzialmente citata questa frase di Edmonds del 99 per cui non esiste un singolo operatore che possa gestire tutti gli aspetti della prevenzione, del trattamento dei problemi del piede diabetico e credo che il piede diabetico sia forse l'esempio più eclatante di una patologia multidisciplinare nella quale il paziente sta a centro di questo progetto e tutte le varie figure ruotano attorno tenendo per mano questo paziente ma tenendosi per mano e collaborando tra di loro perché altrimenti non possiamo vincere questa battaglia Allora sempre nelle linee guide e nazionali e internazionali è stressata la stratificazione dei livelli di assistenza del piede diabetico dall'ambulatorio di medicina generale fino ad arrivare all'ambulatorio di terzo livello mi piace che successivamente alla mia ci sia una relazione tenuta da un podologo che è una figura professionale secondo me di capitale importanza nella gestione delle lesioni e la differenza come sapete l'ambulatorio di secondo livello la fa la presenza oh scusate ho fatto un pasticcio sì l'ambulatorio di secondo livello la fa la presenza del chirurgo che si associa a diabetologo e podologo e l'ambulatorio di terzo livello è una clinica specializzata nella gestione del piede dove fondamentalmente la differenza la fa il radiologo interventista che effettua le rivascolarizzazioni periferiche capite bene che negli anni in tutti i gruppi che si occupano di piede si è scatenata una sorta di guerra di autorreferenzialità per dire no io faccio il terzo livello tu invece fai il secondo che è un po' un discutere di aria fritta perché il punto sì forse anche sapere da chi posso mandare questo paziente se devo fare una rivascolarizzazione ma il punto è che per abbattere quei numeri in termini di prevalenza e incidenza in termini di costi l'attenzione deve essere focalizzata non certo sul terzo livello ma deve essere focalizzata sul livello direi zero su questo livello cioè a livello di prevenzione è uno dei punti programmatici del gruppo di studio nazionale di cui mi onoro di far parte è proprio lo stimolo e la collaborazione tra lo specialista e il medico di medicina generale che ovviamente deve nel proprio paziente diabetico effettuare lui stesso in ambulatorio lo screening caratterizzare secondo gli strumenti che poi vedremo le lesioni e inviare eventualmente allo specialista i casi che ovviamente non possono gestire in ambulatorio è un po' il discorso che più in generale secondo me riguarda la patologia diabetica abbiamo gli strumenti per migliorare le cure ma perché la prevalenza del diabete è ancora troppo alta perché facciamo secondo me tutti noi specialisti in primis troppo poco per prevenire la patologia e quindi agire a livello zero questo è un modello di organizzazione dell'ambulatorio è il nostro ma che di fatto ce ne sono tanti in Italia uguali quattro livelli di attività tutti che si interfacciano tra di loro è un continuo fluire di pazienti dalla fase di educazione verso quello diagnostico a quello terapeutico poi il paziente torna indietro perché dobbiamo rifare un altro tampone un altro controllo d'opper e poi viva Dio guarisce e quindi viene inviata all'ambulatorio riabilitativo anche qua si discute molto su chi è la figura che deve coordinare questa attività direi che siccome la patologia di fondo è il diabete è per forza il diabetologo che deve stimolare i colleghi a realizzare quel girotondo che abbiamo visto rappresentato precedentemente vabbè molto rapidamente queste sono le che vi faccio scorrere rapidamente i suggerimenti che noi diamo ma che grazie all'intervento alle case farmaceutiche adesso possiamo trovare delle brochure anche sui tavoli dei medici di medicina generale su tutte le informazioni che devono dare i medici ai propri pazienti diabetici per quella che è la prevenzione delle lesioni norme che riguardano la valutazione l'ispezione del piede la temperatura l'evitare assolutamente tutti i pazienti diabetici non devono camminare scalzi guardarsi sempre le scarpe utilizzare delle creme idratanti per prevenire per trattare le zone di iperchieratosi la cute secca e ancora qualcosa che riguarda le calze che devono essere cambiate come si tagliano le unghie l'approccio del podologo il podologo soprattutto e mai dall'estetista dei lesioni iperchieratosi che cagli e duroni e rivolgersi al personale di riferimento medico e podologo quando comparisse la minima lesione la minima lesione al piede questo è uno strumento educativo importante che è fornito dal gruppo di studio ormai qualche anno fa e praticamente ci sono proprio una serie di device che servono a far vedere al paziente tutto quello che diciamo dal phon alle unghie al tipo di calzature eccetera nell'ambulatorio diagnostico ci sono questi quattro momenti che vengono valutati e che hanno lo scopo di identificare quelli che sono i pazienti a rischio di lesioni e ovviamente di inviarli poi allo step successivo che è quello dell'ambulatorio terapeutico brevemente al di là dell'anamnesi è molto importante l'esame obiettivo perché deve valutare questa la condizione dell'acute la morfologia del piede e la rigidità articolare che già semplicemente l'esame obiettivo ci può indirizzare sulla presenza di una neuropatia in questo caso motorio ma ancora il trofismo muscolare la deformità e i polsi che è uno strumento di screening fondamentale che quindi tutti i medici possiamo fare nei nostri ambulatori la valutazione della neuropatia la neuropatia sensitiva col monofilamento la sensibilità dolorifica con lo spillo quella tattile col cotone e la forza muscolare ma anche la valutazione dei riflessi con il martelletto e della sensibilità vibratoria col biotesiometro che vedete qui ma che si può fare banalmente anche col diapason che è di più semplice reperimento nella valutazione della neuropatia della vasculopatia scusate ancora importanza l'indice di Windsor ma non dobbiamo dimenticare che i pazienti diabetici sono affetti dalla sclerosi di Bogenberg e quindi dalla calcificazione delle arterie che determina una falsa positività a questo esame e certamente nell'ambito della valutazione della neuropatia importanza all'ecocolordoppler e l'ossimetria transcutanea che serve appunto a valutare la riserva di ossigeno e quindi a suggerire come vedremo un attimo dopo dalle indicazioni a selezione del paziente che deve essere inviato all'angiografia all'arteriografia allora recentemente a proposito di linee guide recenti sono state pubblicate le nuove linee guide dell'International Working Group diabetic foot che sostanzialmente consentono di stratificare e quindi poi di valutare il paziente nel tempo andiamo da un rischio zero con un rischio quindi molto basso in cui il paziente non presenta né neuropatia né vasculopatia e questi pazienti capite bene che possono essere tranquillamente gestiti dal medico di famiglia non affollare i nostri ambulatori ed essere visti annualmente un rischio basso in presenza di neuropatia o di vasculopatia e direi che anche questo può essere tranquillamente gestito in presenza di tutte quelle indicazioni della prevenzione delle lesioni di cui abbiamo parlato può essere gestito dal medico di famiglia e quindi visto ogni sei mesi un anno le cose si cominciano a complicare in presenza di una neuropatia e di vasculopatia ma in presenza di deformità del piede questi pazienti non parliamo qui ancora di lesioni quindi di ulcere questi pazienti devono essere visti ogni 3-4 mesi a questi pazienti devono essere fornite delle indicazioni particolari sulle calzature da utilizzare per la prevenzione delle lesioni e infine un paziente con un rischio troppo alto un rischio alto che ha una neuropatia o una vasculopatia e una delle seguenti condizioni pregressa ulcera pregressa amputazione minore o maggiore e ultima immessa nelle linee guida il paziente in dialisi un paziente diabetico vasculopatico e in dialisi è un paziente ad altissimo rischio di sviluppo di ulcere quanti ce ne sono nei nostri ambulatori una quantità sterminata è un paziente che quindi deve essere visto in centri specialistici ogni 1-3 mesi questo è tutto ciò che facciamo con l'aiuto ovviamente del podologo nell'ambulatorio terapeutico dalla gestione delle lesioni preulcerative al trattamento delle lesioni in atto e grazie al fatto della neuropatia senza portare il paziente in ambulatorio visto che questi pazienti spesso non hanno dolore ricorriamo anche a delle procedure come dire un po' ardite allora se mi resta qualche minuto credo di sì e rapidamente volevo scorrere con voi la flow chart decisionale di cosa fare quando abbiamo un paziente con una lesione dopo averla caratterizzata e cominciamo dal piede neuropatico un paziente col piede neuropatico se ha un ulcera neuropatica superficiale deve essere approcciato con un bisturi quindi deve fare un debridement locale e bisogna confezionare uno scarico con tutore irremovibile lo vedremo tra un attimo in un'immagine il gold standard del trattamento dell'ulcera neuropatica avendo escluso una componente ischemica e il gambaletto gessato e lo scarico in vetro resina un paziente con un'ulcera neuropatica non può uscire dall'ambulatorio con i propri piedi deve utilizzare uno scarico irremovibile questo paziente ovviamente può essere rivisto mensilmente col tutore che si apre si medica l'ulcera e si riconfeziona ma dopo un mese di solito una ulcera superficiale è bella e guarita se l'ulcera invece è più profonda qui ovviamente il debridement deve essere più aggressivo in questo caso dobbiamo confezionare uno scarico con un tutore irremovibile perché qua abbiamo l'esigenza di andare a medicare più frequentemente quest'ulcera che deve essere vista settimanalmente e ovviamente bisogna raccomandare al paziente che per quanto lo scarico sia rimovibile quindi potenzialmente se lo può togliere di non camminare se non ha ai piedi questo scarico vi parlo brevissimamente dello Charcot che probabilmente saprete essere la manifestazione più eclatante del piede neuropatico quelle deformità caratteristiche appunto di questa patologia se siamo in fase acuta cioè se un paziente ha l'edema c'ha il dolore c'ha il calore che sono le caratteristiche che appunto definiscono lo Charcot in fase acuta lo scarico col tutore non deambulabile successivamente dopo circa 3-4 mesi si passa uno scarico con un tutore invece pneumatico e poi va fino alla stabilizzazione monitorato il punto è che spesso lo Charcot che passa dalla fase acuta scusate dalla fase cronica persistono delle deformità se non ci sono deformità si confeziona ovviamente una calzatura altrimenti se persistono delle deformità residue questo necessita di un approccio chirurgico e mi pare che ci siano esatto questi sono gli esempi di un gesso o di un tutore in vetroresina di uno scarico removibile e di un tutore pneumatico piede ischemico se l'ischemia asintomatica vi ricordo che la maggior parte dei nostri pazienti hanno contestualmente all'ischemia anche una neuropatia e quindi sono spesso asintomatici diciamo che la terapia indicata è quella della correzione dei fattori di rischio oltre che ovviamente del compenso glicemico viene suggerita una terapia antiaggregante piastrinica e il paziente viene rivisto anche strumentalmente quindi con l'ecocolor Doppler ogni sei mesi se il paziente presenta una claudicazio intermittence alla terapia dei fattori di rischio bisogna aggiungere la terapia col cilostazolo con l'eparina a basso peso molecolare da linee guida il paziente viene rivisto più a breve termine se invece il paziente è in ischemia critica e lo vedremo tra un attimo qual è la definizione di ischemia critica il paziente deve essere sottoposto a un approccio diagnostico più importante con Doppler l'ossimetria e in alcuni casi con l'angiotac se ci sono dei casi diciamo non chiari agli esami fatti precedentemente e successivamente viene valutata l'indicazione alla rivascolarizzazione che come sappiamo può essere di tipo endoluminale o di tipo chirurgico ma se il paziente invece non fosse rivascolarizzabile ci arriviamo se il paziente non fosse sì ok alla luce poi della rivascolarizzazione c'è l'approccio chirurgico una bonifica può essere aperta la vacca è una chirurgia ricostruttiva volevo arrivare al paziente non rivascolarizzabile in cui trovano indicazioni le prostacicline il protocollo per esempio con l'iloprost che può essere non efficace in questo caso ovviamente il paziente purtroppo è destinato a una terapia antalgica se questa non fosse sufficiente all'amputazione scorriamo rapidamente ecco le indicazioni ancora vigenti della tasca del 2007 il paziente che si considera un'ischemia critica il paziente che ha un dolore a riposo o un ulcero o una gangrena con un'ossimetria transcutanea valutata al dorso del piede inferiore a 30 mm di mercurio questi sono due esempi di nostri pazienti trattati con un'angioplastica questa mi pare sia una femorale sì e quella successiva è una tibiale posteriore ricanalizzata con il ripristino della perfusione del vaso finisco ci sono le ultime piede infetto l'ulcero infetto ovviamente terapia antibiotica sistemica che può essere per os in caso di infezione superficiale di infezione diciamo così di stadio 0-1 e anche qua scarico con tutore rimovibile follow up settimanali in presenza di un flemmone o fascite il paziente deve andare subito in sala operatoria perché il timing qui è fondamentale per il salvataggio d'arto del nostro paziente ovviamente drenaggio chirurgico zaffa irrigazioni medicazione scarico assoluto del piede medicazioni quotidiane fino a controllo dell'infezione in tal'unico caso ovviamente la vacca è suggerita prima poi di portare per esempio un paziente in sala operatoria per chiudere la lesione in presenza di un osteomelita anche qua ricovero è la terapia che in questo caso come nel caso precedente deve essere ovviamente sistemica oltre alla terapia idratante di supporto monitoraggio del paziente fino a controllo appunto dell'infezione bonifica molto spesso uscita il paziente alla sala operatore secondo il grado dell'infezione ovviamente si decide poi di chiudere successivamente il paziente lasciando un'amputazione aperta e quindi facendo scaricare il paziente stesso col tutore non removibile abbiamo finito forse con questa flowchart ecco questo è quello di cui parlavo prima le linee guide dell'approccio della terapia antibiotica vedete se stiamo parlando di un'infezione superficiale che non mette a repentaglio quella che è la vita del paziente né l'arto c'è una terapia per osso con la moxicillina acido clavulanico o la levofloxacina se invece l'infezione mette la lesione si il piede infetto mette a rischio l'arto guardate che protocolli di terapia che si utilizzano addirittura se la lesione è di stadio 4 l'infezione di stadio 4 fino a rischiare la vita stiamo parlando ovviamente di terapia massiva importante della durata di diverse settimane questa semplicemente non vi voglio tediare ma solo per dirvi quanto fermento c'è negli ultimi anni sulle medicazioni avanzate cosiddette nella ricerca di nuovi device di nuovi strumenti che ci possono agevolare sulla guarigione delle lesioni in particolare su questa storia delle cellule mononucleate la terapia cellulare sentite a tutto tonno in maniera trasversale può essere utilizzata vi ricordo però che nessuna medicazione avanzata ancorché molto costosa può essere considerata l'acqua di l'urdo in assenza di una vascularizzazione quindi prima accertarci che grado di apporto di sangue c'è il paziente agli arti inferiori questa è un po' l'attività del nostro gruppo in 10 anni circa di attività vedete gli esami arteriografici con la prevalenza delle angioplastiche i bypass e il numero di amputazioni che per fortuna è discretamente contenuto andiamo rapidamente alle conclusioni non esistono ovviamente né maghi né magie ma serve soltanto esperienza protocolli e vorrei dire soprattutto la collaborazione tra le varie figure che si occupano di questo paziente torna forte il concetto della creazione necessaria di un team multidisciplinare per la gestione di questi pazienti perché io da solo non posso far nulla se non portare questo paziente a una rapida amputazione con tutto quello che questo comporta ma non bisogna dimenticare che l'impossibilità il fallimento la complicanza sono dietro l'angolo spesso la lesione del piede è la punta dell'iceberg sono pazienti che contemporaneamente hanno delle lesioni importanti significative a livello coronarico a livello delle carotidi e che per esempio essendo sposte a procedure di rivascolarizzazione in un paziente con insufficienza renale spesso possono evolvere una condizione di insufficienza renale acuta e allora tenendo conto tutto questo direi che al di là della collaborazione dell'esperienza serve pure ricorrere a qualche metodica non esattamente scientifica come questo nostro paziente che prima di andare in sala angiografica si è rivolto diciamo così a dei santi protettori grazie per l'attenzione questo è il gruppo mio di lavoro con gli interni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti